Si è conclusa con lo spettacolo L'Europa vista con i nostri occhi, la seconda edizione di Europuzzle, iniziativa promossa dalla consulta regionale europea con l'Accademia dei Folli di Torino. Il progetto, didattico e culturale, dedicato alle classi quarta e quinta elementare di dieci scuole torinesi, ha raggiunto l'obiettivo di eliminare idealmente barriere e confini, coinvolgendo 250 bambini in uno spettacolo teatrale in cui è stata dipinta una galleria di ritratti dell'Europa. Questa iniziativa è promossa dalla consulta europea del Consiglio regionale e tende a portare i valori dell'Europa nelle classi elementari, cosa che non era ancora mai stata fatta. Noi, una compagnia di musica e teatro, ci siamo resi complici di questa impresa e siamo andati in ben dieci scuole del territorio torinese per portare i valori dell'Europa attraverso delle testimonianze che le classi stesse hanno portato e che un nostro autore ha poi rielaborato creando dei piccoli testi che poi abbiamo portato in scena, facendo vivere ai bambini un'esperienza unica e facendoli comprendere il concetto di Europa, declinato in vari argomenti.